buongiorno a tutti è un saluto particolare anche a chi ha partecipato al gruppo network per i soldi io sono un sono stato un povero e angosciato oggi sono un po meno povero ma giulivo e per domani ho intenzione di diventare forse non povero sicuramente giulivo ma proprio sicuramente non più angosciato se siete degli se avete partecipato ai filenze del passato sicuramente avrete sentito la presentazione appunto di alessandra che si intitolava i conti di una libera serva in quella presentazione alessandra con un foglio di calcolo ci spiegava come capire quanto farci pagare quanto dover lavorare per mantenere il tenore di vita che decidavamo in questa presentazione voglio raccontarvi come uso quello strumento e uso soprattutto il budgeting per realizzare il tenore di vita di cui che ho deciso di avere lo faccio attraverso un app un sito web che si chiama unida budget è un app a pagamento sono gli 80 euro meglio spesi della mia vita anzi gli 80 dollari e mi aiutano questa questa app mi aiuta a pianificare il mio anno e soprattutto a raggiungere gli obiettivi economici delle spese che devo tenere senza avere più sorprese né angosce né timore di non riuscire ad arrivare a gestire il fine mese portiamoci al 31 dicembre di quest'anno siamo pronti per andare a festeggiare il capodanno abbassiamo la sala cinesca iniziamo a fare dei conti dobbiamo segnarci dei numeri il primo è quanto abbiamo fatturato il secondo è quanto abbiamo speso per portare avanti la nostra attività ma soprattutto quanto abbiamo incassato ci sarà sicuramente anzi io vi auguro di no ma ci potrebbe essere una discrepanza fra quanto abbiamo fatturato e quanto abbiamo incassato e questa discrepanza potrebbe essere un qualcosa di fisiologico nel nostro nelle nostre attività no quindi sapere che comunque un 5 per cento di differenza c'è sempre ci tornerà utile capire questa questa differenza e la mettiamo lì da parte se sappiamo quanto abbiamo fatturato in base al regime fiscale che abbiamo e con l'aiuto del commercialista possiamo tirare giù dei conti della serva appunto dei conti grossolani per capire quanto dobbiamo pagare per l'anno 2020 di contributi e quanto dobbiamo pagare per l'anno 2020 di tasse una volta che consegneremo la dichiarazione dei redditi nel frattempo avremo pagato già degli anticipi per cui in realtà ci rimarrà un saldo che dobbiamo pagare ora se siamo stati bravi i soldi per pagare quel saldo sono già nel nostro conto corrente perfetto se non siamo stati bravi dobbiamo lavorare per avere quei soldi per pagare dopo sei mesi il saldo perfetto andiamo a cena il giorno dopo riapriamo la sala cinesca e rifacciamo riprendiamo i nostri numeri e facciamo la pianificazione dell'anno pianificazione che viene fatta rispettando tre regole che tutti noi dovremmo conoscere anzi sono sicuro che conosciamo però così ve le ripeto prima regola si fattura sempre di più dell'anno prima di quanto del 5 del 10 del 15 per cento dovete deciderlo voi perché si fattura di si deve fatturare di più perché se fatturo di più a fine anno avrò un saldo poi da pagare se fattura uguale avrò pagato gli anticipi e con le tasse sono a posto se fattura di meno ho pagato di più di quanto avrei dovuto e questo non ci piace per cui primo obiettivo da darsi è quest'anno quanto voglio fatturare di più lo decidete voi in base all'aria che tira alla vostra alle idee che avete a quello che avete sentito in giro a quello che avete già già in casa seconda regola le tasse relative a un determinato anno si pagano con i soldi incassati in quel determinato anno abbiamo detto prima se siamo stati bravi i soldi sono già in cassa se non facciamo se non rispettiamo questa regola andremo a togliere soldi dal da quanto guadagnato nel 2021 e questo non è buono terza regola questa la sapete tutti e mi aspetto un coro dai commercialisti in piazza ci hanno detto sempre esiste il fatturato meno le tasse meno le spese uguale il profitto e il margine il profitto più che altro proviamo a ribaltare quest'idea quest'equazione e calcoliamola così abbiamo il fatturato abbiamo le tasse mettiamo il profitto che noi decidiamo di avere uguale le spese che posso permettermi di fare durante l'anno per la mia attività ragionare in questo modo cosa significa significa innanzitutto che il mio profitto lo proteggo perché lo innalzo di di importanza e seconda cosa mi do un tetto alle spese che voglio che posso sostenere per l'anno ovviamente deve essere un'equazione sostenibile perché se le spese non sono se non sono sostenibili devo intaccare per forza il profitto però in meno così mi do in quei numeri che mi servono inizio di anno mi do un altro po di di riferimenti tenete presente anche un'altra cosa se non sono stato bravo l'anno prima e quindi non ho i soldi sul conto per pagare i saldi ovviamente ci rimetteranno il profitto e le spese quindi avrò meno quel computer che mi serve non me lo posso comprare oppure quella vacanza che pensavo di farmi non me la posso fare bene abbiamo le nostre regole si inizia a pianificare quanto voglio fatturare di più quest'anno 10 15 20 per cento mettiamo 10 mi faccio la mappa dell'anno a gennaio dello scorso anno quanto fatturato col 10 per cento in più quanto viene i contratti che ho in essere oggi mi permettono di raggiungere quell'obiettivo oppure devo trovare altri clienti quali saranno i mesi più difficili durante l'anno quel cliente che sto che sto corteggiando entro quanto me lo devo portare a casa per essere sicuro che marzo piole maggio sono 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 al sicuro se mi capita una pandemia dove mi sistemo qual è entro quanto devo assolutamente correre ai ripari sono stato così bravo che sono avanti allora posso permettermi di accettare quel lavoro per quei ragazzi che stanno iniziando adesso e che non hanno soldi ma che fanno un progetto che mi piace tanto insomma posso disegnarmi uno scenario una mappa nel quale muovermi questa mappa ovviamente ogni tre mesi andrò a controllare che effettivamente sono la storia spettando e questo è importante abbiamo detto ho deciso il fatturato più o meno ho capito dove sono le cose so quant'è più o meno quella percentuale di differenza fra fatturato un incasso allora posso già il primo gennaio farmi grosso modo un'idea di quanto pagherò di contributi e di tasse per l'anno sempre come pianificazione fin qui i numeri adesso vi racconto lo strumento unida budget è un'app è un sito web che nasce per il personal budgeting come ce ne sono tante di app di questo tipo però ha una differenza rispetto a tutte le altre le app di personal budgeting che ci sono e che sono molto diffuse che probabilmente molti di voi utilizzano che cosa fanno mettete una lista di voci di spesa la casa la macchina l'assicurazione il supermercato il telefono e poi ogni volta che fate una spesa andate a classificare che tipo di spesa è e queste app sono molto utili per dirvi come avete speso i vostri soldi che è interessante però una fotografia del passato a noi quello che serve invece pianificare il futuro unida budget fa fin qui la stessa cosa tra le sue belle voci di spesa quando voi fate una spesa andate a dire è quella voce lì però in realtà non sono solo voci di spesa sono budget che cos'è un budget definiamolo un budget è una spesa che io pianifico di avere e che quindi devo coprire con dei soldi cosa significa in soldoni prendiamo per esempio la spesa dell'assicurazione dell'auto io so che arriva tutti gli anni a giugno e sono 600 euro se io aspetto che mi arrivi che mi scada devo tirare fuori 600 euro ma se io so che arriva a giugno posso tranquillamente mettere una fettina di soldi dei miei soldi in quel budget e poi a giugno quando arriverà la spesa avrò i soldi disponibili quindi quest'app ti porta a dare un compito a tutti i soldi che tu hai o incassi per cui hai la lista delle spese hai la lista dei budget divisi come vi pare a voi per categoria mettendo prima quelli del compito più importante cioè la cosa che più vi sta a cuore raggiungere e assegnate dei soldi in più c'è un'altra cosa l'app vi permette di creare dei goal ovvero e qui arriva il punto cruciale possono essere goal di vario tipo esempio voglio crearmi un fondo di emergenza metto ogni mese 50 euro su quel fondo l'app ti dice perfetto devi mettermi 50 euro devi assegnare il compito a la prossima fattura che ti arriva incassi hai una entrata 1500 euro 50 li devi assegnare al come scopo mi devo creare un fondo di emergenza oppure può esserci un secondo goal che è un goal di spesa a una determinata data voglio devo pagare l'assicurazione dell'auto a giugno sono 600 600 euro mancano nove mesi l'app ti dice questo mese devi assegnare 66 euro a questo goal in maniera tale che poi ogni mese metti 66 euro alla fine arrivi a 600 se ne metti di meno adegua il calcolo mese per mese se ne metti di più sarà più facile oppure c'è un altro tipo di goal che è quello di spesa voglio farmi una vacanza l'anno prossimo ad agosto valuto che siano 2000 euro l'app mi aiuta a mettere la cifra ogni mese per quel tipo di compito sapendo che il biglietto dell'aereo magari lo compro a marzo che trovo un'occasione però lo vado a prendere da quel budget che nel frattempo costruito torniamo ai nostri numeri che budget servono noi per diventare più bravi beh innanzitutto serve un budget del valore dei contributi annui che io ho previsto di andare a spendere e lo stesso per le tasse faccio un budget da qui da gennaio a dicembre della somma dell'intero anno di tasse dell'intero anno di contributi e ogni mese l'app mi dice bene se vuoi stare puntuale con questo obiettivo ogni mese devi mettere questa piccola somma in quel budget lì nel frattempo capiteranno gli anticipi ma è gli anticipi sono all'interno di questa spesa per cui non li sentiamo e si finisce di parlare di anticipi ora è importante se non vi è chiaro il meccanismo degli anticipi cioè fatevelo spiegare bene dal commercialista ma comunque non è più un'angoscia se non sono stato bravo l'anno prima beh allora devo prevedere altri due budget contributi dello scorso anno e sarà e tasse dello scorso anno e sarà un budget di sei mesi quindi ho sei mesi di tempo per andare a coprire anche quella cosa e capite che allora è meglio essere bravi è meglio lavorare su tutto l'anno però vi posso assicurare una cosa questo metodo vi permette di risolvere una volta per tutte il problema dell'anno precedente esiste anche un altro per esempio creo anche un altro tipo di budget io credo anche dei budget per l'iva in realtà potrei creare un budget solo dove accumulare tutte le tutte le quote iva delle fatture che faccio e poi andare a lì a dare a pescare lì soldi per degli f24 trimestrali ma a me piace avere quattro budget uno per ciascun trimestre perché perché bisogna godere per godere che cosa si fa se io li metto per trimestre quando arriva l'f24 della commercialista il più delle volte è inferiore alla cifra che io ho accumulato per cui pago l'f24 noto con piacere che esiste una piccola somma che era che aveva il compito devi pagare l'iva del primo trimestre che non serve più e la sposto a un altro obiettivo tipo devo pagare i contributi dell'anno prima e quindi alleggerisco raggiungo più velocemente l'obiettivo che volevo che volevo coprire e questo mi succede quattro minimo quattro volte l'anno dopodiché se ho fatto dei calcoli grossolani ovviamente sul sul calcolo di quanto voglio devo pagare di contributi e di tasse su tutto l'anno e non mi sono lanciato anzi nessuno penso che si lanci nel nello stimare ma si può fare nello stimare quante di quelle spese sono deducibili quante delle spese sono detraibili però se uno lavora sempre lo stesso modo potrebbe anche dire dare delle quote e metterci dei numeri più o meno grossolani mi capita anche quando mi arrivano gli altri f24 perché se non ho calcolato al centesimo e non lo fa nessuno non è neanche necessario un mestiere dei commercialisti dirti al centesimo quanto è però te lo dicono a maggio ed è troppo tardi maggio a noi serve a gennaio anche lì avrò dei delle quote delle somme che avevano un compito esposto altrove il meccanismo è questo l'app è un pochino all'inizio complicata da digerire ma è estremamente potente per fare queste cose qui vi dicevo un app a pagamento sul sul sito di su facebook poi se volete mi chiedete un codice di di affilazione io posso darvi 30 giorni in più di di prova perché ci vogliono ci vuole un pochino di tempo per prendere confidenza e soprattutto per decidere quali sono i budget che per noi sono molto più importanti quindi qual è il problema che hai il problema che non sei ancora nella nella logica di avere di dover pagare le tasse dell'anno prima con dei soldi che non hai bene allora quello deve essere il tuo primo gol oppure hai un mutuo perfetto allora quello che ti avanza da una parte lo puoi mettere nel mutuo e quindi arrivare a pagare una rata in più e accorciarti il tempo oppure hai bisogno di un computer nuovo allora ci devo ci arrivo il più presto possibile e mettendo che so un un gol da qui fino al prossimo black friday ad esempio i vantaggi di quest'app sono molteplici il primo è la consapevolezza prima di tutto perché dovete impostare i vari gol e quindi farvi una domanda quanto quanto vale quella cosa lì quanto tempo mi serve per raggiungerla e l'app ti aiuta la consapevolezza anche nel momento in cui fai una spesa superiore al budget che avevi previsto succede non può non succedere una cosa che succede tanto quanto capita che tu hai fatto un budget e la spesa è inferiore tanto capita che la spesa sia superiore beh in quel caso però l'app immediatamente nel momento in cui fate la spesa vi dice ok di questa cosa qui i soldi non li avevi li devi prendere altrove e quindi cosa da dove da quale budget sposto per andare a coprire lì lo decidete voi in base a quello che arriva più lontano a quello che potete gestire meglio però è una decisione che prendete immediatamente è scegliere immediatamente visto che la coperta è troppo corta se scoprire il piede destro o scoprire il piede sinistro ed è una consapevolezza molto importante secondo punto di vantaggio è un calcolo che l'app realizza e vi dice quanto tempo di una media su tutti gli euro che voi avete gestito come budget quanto tempo passa fra assegnargli un compito e spenderlo questa viene chiamata age of money vi rendete conto utilizzando quest'app che quando questa age of money raggiunge i 30 giorni vuol dire che voi non state più ragionando sulla fine del mese che il vostro conto corrente sale perché avete accumulato comunque dei soldi che aveva dato un compito in là nel tempo quindi quello inevitabilmente salirà ma soprattutto le spese non sono più mese per mese si inizia a perdere la prima angoscia non riesco arrivare a fine mese non solo quando si continua a usare questo sistema e quindi gli age of money da 30 giorni diventano 60 65 80 90 è una media quindi vuol dire che sul vostro conto corrente esisteranno soldi in attesa di essere spesi in un tempo molto lungo ad esempio il saldo delle tasse il saldo delle tasse se siamo stati bravi giace sul nostro conto per sei mesi e quindi opportunità posso andare in banca e dire al a chi cura gli investimenti io ho questa somma o una parte di questa somma e sono sicuro che per sei mesi non mi serve perché ho dato ad altri soldi il lavoro per altre cose facciamoci qualcosa qualcosa di grande qualcosa di piccolo non importa questo dipende dal vostro dalla vostra attitudine a gestire questi strumenti ma anche se fosse qualcosa di poco sarebbe comunque un qualcosa di poco a cui puoi dare un altro lavoro in seguito perché nel momento in cui io acquisto alcuni titoli per esempio dei fondi e poi quando li vendo scopo che ho fatto il 2% è un 2% che a cui assegnare un altro compito e quindi avvicinarmi a un altro obiettivo il computer la vacanza e uscire dalla logica delle tasse dell'anno prima eccetera eccetera in tutto ciò però la soddisfazione più bella è quella proprio relativa agli f24 perché quando arriva l'f24 dal commercialista dopo un po di f24 pagati inizierete a guardare il pdf leggere distrattamente la cifra che c'è scritta guardare il budget che avevate previsto non solo spostare la cifra in eccesso pagare l'f24 con enchalance con leggerezza e con soddisfazione ora questa soddisfazione di questo gesto non è dovuto a un colpo di fortuna come spesso si sente dire ah beh sì tu sei fortunato va bene a te non è non dipende neanche da ricchezza che avete accumulato nel tempo è semplicemente la consapevolezza di gestire correttamente l'amministrazione della vostra attività e quindi darvi degli obiettivi e raggiungerli e io penso che per un freelance questa sia la soddisfazione a cui tutti aspiriamo grazie